Salve a tutti ragazzi da PierreDarkNight91 e benvenuti nella quarta puntata su PES 2019 nella modalità MyClub Nella scorsa puntata abbiamo avuto un po' di sfiga ma abbiamo visto anche i nostri limiti Forse la nuova maglietta ha portato un po' sfiga, forse giusto quello Quindi vi faccio un recappone sulla squadra, abbiamo perso, addio Lewandowski E quindi adesso giocheremo con Fran Sol, incredibile E adesso avremo Bamba che è molto veloce, 88 di overall, non è un giocatore in prestito Coutinho ha ancora qualche partita, 5 partite ancora per Coutinho Giocheremo così, non vado ad aumentare la resistenza dei miei giocatori Sperando che in queste 3 partite adesso incominciamo a fare qualche punticino Io vi chiedo di lasciare tanti, 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 tanti pollicioni in su per supportare la serie Ho registrato, sto registrando questo video subito dopo la registrazione della puntata precedente Quindi se mi avete dato consigli ancora non li leggo Quindi devo aspettare alla puntata numero 5 per mettere in pratica i vostri consigli Per il momento non trova nessuno, non gioca nessuno a PES, non si sa perché i server sono molto lenti E c'è da dire, la ricerca è davvero molto pesante Aspettiamo Ok avversario trovato, Robby10476 in codice fiscale in poche parole Beh, ha una sola vittoria in 5 partite, merito 2 Non lo so cosa vuol dire merito 2 Di sicuro me l'avete già scritto nella puntata precedente A Salah, Douglas Costa, Pedro, Neto Ha una squadra più forte, mi sa che nelle prossime puntate dobbiamo incominciare a fare ball opening Calcio d'inizio, ok abbiamo trovato un nostro amico napoletano E quindi come di consueto sia su FIFA che su PES troviamo napoletani Bene, il match è iniziato, mamma mia attacca veloce, mamma mia Calmo, calmo, no no difensore, terzino, ci sei terzino Terzino, sveglia terzino, sveglia terzino Chiuso, oh mio dio, oh mio dio Le anime, ancora noi Vai con Coutinho E muoviti Coutinho Madonna, sto sopravvalutato Madonna, il centrocampo è lentissimo Lentissimo Andiamo Ok Girati Ah Niente, è lento, è ancora troppo lento Oh no, Salah è partito di nuovo Vai, blocca Salah Blocca Salah, bene Sorich, signori, già morto La resistenza non c'è più, finisce il primo tempo 0-0 Foggia FC Dark Knight Napoli Abbiamo tirato più noi, ma una partita con pochissime occasioni Ma proprio poche Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ok Oh, e va Ma Bel tocco, Vanaken Vanaken, benissimo Bello Non lì, c'era Bamba libero Perché ha Vidal Vai, vai Sessantunesimo Pallone e mezzo Vai così Uh Coutinho Richiede il pallone Fransol Bello il passaggio E arrivaci una volta ogni tanto della tua vita Una volta Vai Bene Coutinho Non la metti La mettila e mezzo Che la vinciamo Mettila e mezzo Che la vinciamo Oh Bamba 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 L'amico dei bambini Bamba Bamba L'amico dei bambini Ok Finisce Oh abbiamo vinto Bamba Il novantesimo Bamba Bamba L'amico dei bambini Ok Livello 5 per Hettik Livello 5 per Sorich Livello 4 per Manas Un colpo di Manas Anche di Kulus E quindi signori Vabbè questi stanno inguaiati Che guardo a fare Che guardo a fare Ok 66 Peppe Galli 1926 Valutazione 428 Questo E il nostro prossimo avversario Napoletano Cioè Non ho nulla contro i napoletani Però mi escono solo quelli Quindi E lui deve fare ancora la sua terza partita in assoluto Su PES E invece noi abbiamo già 2 4 6 Penso 7 partite Non ricordo bene 7 partite comunque 7 a E a 2 Bale Salah Coutinho Lemar Beckham Ok ho capito Abbiamo perso Che squadra Seconda partita di oggi Il match è iniziato 0-0 Attenzione Voglio vincere 3 partite su 3 Ma non sarà semplice Perché questo qua Ha uno squadrone Tenne così Secondo Secondo Palo Secondo Secondo palo Bamba Per favore Bamba Arriva Bamba Bamba Ancora numero Passaggio sulla fascia Vai Bel cross E in la madò Ok Manas Ancora con i piedi Pallone in mezzo Colpo di testa Fuori Secchite Stravibus Bene Guardalo Guardalo C'è cuti Muoviti cutigno Madonna bestia Come sei lento Cutigno Cutigno Abbiamo Bamba Bamba Chiede il pallone Pallone in mezzo Attenzione Bamba Niente Di prima Ancora Mi fischia Alla fine del primo tempo In contropiede Ma davvero È uno scherzo Fine primo tempo Palla al piede Bene Vai 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 cutigno Finta cutigno Salta l'avversario Tira Oh Eh che cosa è Ha segnato cutigno Meno ma Eh io sto schiacciando Oh beh 1 a 0 per noi Non lo so Decidete voi Come volete esultare Basta che vi decidete Scusi Cervi Bail Ci prove No Straversario però Non riesco a selezionare Il giocatore che dico io Attenzione Lemar 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 Attenzione Lemar No il gol No 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 Ciao 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 Veste Vanaken Bene così Girati Vai così Bamba Repitolo Bamba L'ha messa in mezzo Se l'è divorato A due passi dalla porta Colpo di testa di Vanaken Ottimo Ottimo Che giocatore Subito Richiede pallone Fatti perdonare Vanaken Vanaken Pallone in mezzo Fransol Chiede la sfera Pallone in mezzo Colpo di testa Sulle mani del portiere Che non blocca E spazza E spazza E spazza Attenzione ai contropiedi Con Beckham Che non è velocissimo Contropiedino Guarda Bamba È partito Bamba Benissimo Attenzione Bamba Repitolo Bamba San Girolamo Bamba 2 a 0 No 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 Attenzione Prova a riaprire subito La partita Mamma mia Come è sceso Il nostro portiere Signore Incredibile Vai così Novantesimo Palla al piede Ecco il tocco Ancora un pass Bamba Attenzione Bamba È partito Bamba Ha preso forma Incredibile Preso forma Madonna mia Finisce! Bamba! 2-0! Bamba! Due vittorie! Bamba! Ok! Basta! Basta! Livello 5 per Etic! Livello 5 per Manas! Che a noi non serve proprio più! Non ci interessa proprio! Non mi frega di questi giocatori! Bene! Mancheranno che ne so 4 partite! Non lo so! Mancheranno 4 partite! Io spero che mancheranno 4 partite! Mancano 4 partite! Prossimo avversario signori! Oh! L'Eletto 1986! L'Eletto! Va bene! L'Ele FC! 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 partite signori! Speriamo non abbia tantissimi... A De Bayor! Mbappé! 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 Vabbè! Poi il resto non è che abbia chissà che giocatori! Abbiamo la possibilità di fare 3 vittorie consecutive! E non ho messo la... Oh! Non ho messo la resistenza! I miei giocatori sono stanchi! Vabbè! Fa niente! Va bene! Piove! Attenzione! Attenzione alla pioggia che potrebbe portarci sfortuna! Quindi FC Dark Knight contro Lele! Lele se non ricordo male! Ok! Il match signori è iniziato! Vai! Possiamo vincere 3 partite su 3 quest'oggi! Benissimo ancora per Vidal! Bene! Teniamo il pallone! No! No! Ragazzi! Attenzione! Attenzione al partito Mkhitaryan! Attenzione! C'è nessuno in difesa! Tutti dormono! Incredibile! Se l'è divorato! Meno male! Ancora Bamba! Finta di Bamba! Ancora! Finta! Bellissima! Manas! Manas! Pallone in mezzo! Il tiro! Fransol! Ancora un tocco! Bene! Vai Bamba! Vai che ci arrivi! Vai che ci arrivi Bamba! 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 Finta! Bamba! La mette in mezzo! Ancora una volta! No! Verso Coutinho! Ma verso Fransol! Signori! Dobbiamo dare il pallone di testa a Fransol! Attenzione a De Bayor! Scambia molto bene! Il difensore si addormenta! Oh! Oh! Ehi! Amici! Amici difensori! Ok! Ci siete! Ci siete! Ci siete! Ci siete! Bravi! Bravi! Ah! Un po' così e così! Oh! Ah! Donna mia! Fransol! Devo giocare con Fransol! Donna! È forte questo! No! 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 Non lo fare più! Attacca il nostro avversario! C'è davvero tanto spazio! La parata butta fuori! Madonna! Mi si soffre! Tocca a Coutinho! Mettile in mezzo! Doi così! Vai! Bambino! Bambino! Bamba! Dai! Ecco! Donna! Che passaggi! Ecco! Siamo sotto per un passaggio sbagliato al centrocampo! Vai! Coutinho si è infilato! Mettila! Mani! Oh! Oh! Va bene! Va bene! Va bene! Va bene! 1 a 1! E dobbiamo subire gol per segnare! Bamba! Finisce il primo tempo! L'abbiamo presa per i capelli questa partita! Andiamo nel secondo! Comunque più o meno siamo lì! Giochiamo uguale al nostro avversario solo che lui è leggermente più bravo! Vai! 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 Bananiken! 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 Vai così! Oh! 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 Sì! Sì! 2 a 1 per noi! Sì! Grandissimi! Dai! Facciamo i 3 a 1! Dai! Facciamo i 3 a 1! Tre vittorie consecutive! Dai! Non prendiamo gol adesso! Mkhitaryan! Attenzione! Pallone in mezzo! Cross! Attenzione! Cross! Attenzione! Cross! Ecco! Vai! Chiudi! 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 I cross! I cross! I cross! I cross! La difesa sui cross non c'è! Non c'è 2 a 2! C'è neanche il tempo di esultare! Madonna mia! Dai! Chiudete! Qua non c'è nessuno sulla fa... Il terzino destro! Dove cacchio è? Vai! 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 Dai! Guarda Bamba! Guarda Bamba! Guarda Bamba! Guarda Bamba! No! Per pochissimo! Questa la perdo eh! Ve lo dico subito! Questa l'ho persa eh! Questa l'ho persa! Eh! L'ho detto! Vedi? 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 Vedi la mad... Vai Bamba! Vai Bamba! Vai Bamba! Filati! Filati Bamba! Bene! Bamba! Vai! Bamba! 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 Cosa hai fatto? Dai! 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 Guarda Bamba! Bamba è l'unico decente! Attenzione Bamba! Bamba! Vai! Vai Coutinho! La capa a stortchettina! Un minuto di recupero! Ma te lo devi prendere il gol adesso! Te lo devi prendere! Forza così! Vidal! Eh! Ma che cacchio! Un minuto di recupero! Dura una sputazza! Un minuto di recupero fine! Eh! Che cacchio! Oh! Ma dai! Oh! Che peccato! La vincevamo questa partita! La vincevamo! Mannaggia a me! Mannaggia! Più o meno! Cioè era una partita da pari! Questa era una partita da pari! Eravamo lì! Uguali! Incredibile! Due vittorie! Una sconfitta! Incredibile! Speriamo sale qualcuno di livello! Fatemi salire qualcuno di livello! Soric! Natavota Soric! E non me ne frega niente di Soric! Neanche di Fratitis! Non mi interessa di Soric! Mamma mia! Ok! Mi sa che manca una partita! Penso! Spero! Perché davvero! Stiamo facendo partite su partite! Niente! Boh! Allora signori vediamo se nella prossima puntata riesco a portarvi qualche ball opening! Perché noi abbiamo bisogno della difesa! Il problema nostro è la difesa! Quindi dobbiamo capire! Agente top! Ci dà tre portieri! A 25.000! Mmm! Dobbiamo arrivare intorno ai 200.000 GP per fare un ball opening! Nel frattempo facciamo crescere quelli che abbiamo! Pool da collezione! Che cos'è questo? 250 o 25.000! Non male! Già di livello 30! Non male! Quindi ragazzi lasciate tanti bei pollicioni in su! Condividete e commentate! Sperando adesso che nelle prossime partite riesco a portare a casa delle prestazioni migliori! Sì abbiamo vinto due partite ma le vinciamo senza essere come dire competitivi! Forti! Cioè si vede la differenza con l'avversario! Sì vinciamo ma perché abbiamo azzeccato un tiro meglio dell'avversario! Ma non è che siamo competitivi chissà! Stiamo inguaiati signori! Stiamo inguaiati! Stiamo inguaiati! E per diventare forti bisogna giocare tanto! Quindi vediamo un po'! Sorry! 50 C-manus! 63 Etrix! Etrix! 63! Era 60 però eh! Sta crescendo! Ragazzi io vi do un bacione e un abbraccione! Ci vediamo nella prossima puntata! Due vittorie e una sconfì! Fagnè! 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 Ciao!